Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Cultura dello Scarto. Spero che dopo la condividerete sui vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Cultura dello Scarto perché a volte si presentano davanti ai nostri occhi dei poveri e chiedono uno spicciolo per mangiare. A noi a volte li ignoriamo perché giriamo la testa dall'altro lato pensando al nostro egoismo senza pensare al loro bisogno reale. A volte si presenta un ammalato che chiede un aiuto e noi ignoriamo. C'è questa cultura di stare lontano dai problemi societari. Dobbiamo quindi rialzarci, emergere e dare importanza alle cose più importanti che sono quelle proprio dell'aiuto verso gli altri. Vi leggo adesso la poesia dal titolo Cultura dello Scarto. A volte si presenta un povero che chiede uno spicciolo per mangiare e noi giriamo il volto dall'altro lato senza pensare. A volte si presenta un ammalato che chiede un aiuto perché è grave e noi con nostro orgoglio gli diciamo scusa tanto, ho molto da fare. La cultura dello Scarto sta prendendo una brutta piega quella di rinnegare ogni aiuto fondamentale per il bisognoso. La cultura dello Scarto dovrebbe essere combattuta perché siamo tutti uguali nel mondo e meritiamo attenzione e stima reciproca. Grazie, spero la condividerete sui vostri contatti. Whatsapp, arrivederci.